Oggi dobbiamo necessariamente prendere una posizione molto forte per cercare di combattere questo fenomeno e benvenga la determinazione del Presidente del Consiglio Renzi che ha subito portato avanti e domani credo che dovrebbe decidere il Consiglio dei Ministri un disegno di legge governativo su delle misure per cercare di combattere questo fenomeno.